Noi siamo attivisti e attiviste di Extinction Rebellion, che è un movimento di protesta e il messaggio è che la crisi ecologica è in atto, è iniziata e la crisi ecologica è collegata anche con la pandemia che stiamo attraversando. Perché è collegata? Perché fondamentalmente la diffusione di virus, come per esempio il coronavirus, è resa molto più facile e molto più probabile dalla devastazione degli ecosistemi. La devastazione di questi ecosistemi, combinata con anche la zootecnia che spesso è correlata alla distruzione di questi ecosistemi stessi, facilita il salto di specie del virus, da una specie animale all'altra e quindi la sua evoluzione e in ultima istanza anche il suo passaggio all'uomo. Interconnessione, senza interconnessione non c'è più la vita. interconnessione, la mancanza di interconnessione e mancanza di vita. interconnessione, senza interconnessione, per la città di interconnessione e per la vita si è importante, per la crema che il calendario è inizio del risveglio. ora ci riazeremo, simbolicamente otto una vita, tutta una vita con le ritmi naturali con i loro soggetti. Torniamo alla meta. Arriviamo addirittura a stare in piedi, ricordiamoci di portare con noi nel cuore e nella mente i contenuti di questo momento di meditazione.